Avevo delle articolazioni, particolarmente alle dita dei piedi e delle mani. L'ortopedico, quando sono andato a passare la visita, io ho detto già un po' di pomada per questo dito. Ha fatto un ullo? Ah, io ho fatto un ullo perché faceva male. E' l'arciosi. Dopo che ho fatto queste applicazioni, lo faccio da sole e non fa male, quindi si nota. Con la factum non vale l'argomento. Dinanzi alle proprie non c'è bisogno di discutere. Non c'è bisogno di discutere.